Stop alle dimissioni in bianco. Dal 12 marzo è in vigore la norma del Jobs Act, che rende più semplici le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La nuova procedura telematica, facile e veloce, garantisce maggiori tutele per i lavoratori. Basta munirsi del PIN IMSS e compilare il modulo online su lavoro.gov.it. È possibile avvalersi di patronati, sindacati, enti bilaterali. Dimissioni telematiche. Rapide, semplici e sicure.